Tutto Food 2019 siamo allo stand del brand D'Amico e ci troviamo in compagnia di Maria D'Amico la responsabile marketing del gruppo Maria benvenuta Salve a tutti io sono Maria D'Amico del gruppo D'Amico e l'azienda racconto in brevemente insomma l'azienda quando è nata l'azienda è nata nel 1968 per volere di mio nonno Mario e del fratello Francesco all'epoca l'azienda nacque con la produzione delle alici della costiera amalfitana dopo qualche anno ecco mio nonno e mio zio svilupparono, ampliarono l'assortimento anche con ortaggi e insomma creme, peste e salse nel tempo poi l'azienda appunto è cresciuta sono entrate le nuove generazioni con mio padre, cugini e fratelli abbiamo fatto una prima grande acquisizione con i brand Logro e Montello questi brand ci hanno permesso comunque uno sviluppo non solo nel centro-sud ma anche a livello nazionale perché erano molto forti nel nord-est e nel nord-ovest si è ampliato ancora di più l'assortimento anche in tema di categorie che sono legumi e cereali fino ad arrivare insomma al 2018 dove l'importante novità che presentiamo anche qui la fiera Tutto Food è la nostra acquisizione di Robo 1938 un marchio storico, 80 anni di storia l'abbiamo rilevato proprio per entrare in maniera più capillare in quello che è il mondo della ristorazione del fuoricasa, quindi tutto il mondo professionale servire al dettaglio ciò che è la ristorazione, ciò che è la pizzeria, la paninoteca quindi ci presentiamo non solo come una delle principali aziende del mondo delle conserve vegetali ormai affermate, lo possiamo dire nel nostro piccolo per il mondo retail con D'Amico ma vorremmo portare avanti quello che è la nostra professionalità, il nostro amore la nostra esperienza anche nel mondo fuoricasa attraverso il brand Robo 1938 Brand che prevede, come stavate guardando mentre Maria D'Amico lo spiegava, tante referenze quante sono le referenze nell'ambito di Robo 1938? Sì, nell'ambito di Robo sono circa 600, considerando tutto il gruppo arriviamo a circa 1000 referenze quindi siamo ben completi sotto questo aspetto possiamo ricoprire non solo quello che è il mondo principale, che è il nostro core business delle conserve ma anche ciò che è il mondo legato al fuoricasa inteso come hotelleria quindi abbiamo dei partner dove siamo in grado di fornire anche delle fette biscottate del marmellate, quindi dare della prima colazione o anche del riso, quindi per chi volesse comunque fare dei primi con del risotto o delle chicche di patate insomma il nostro assortimento è abbastanza ampio naturalmente quello che ci teniamo soprattutto a far conoscere è il mondo delle conserve perché siamo nati con le conserve e abbiamo la nostra esperienza e professionalità in merito Direi una gran bella azienda, una bella esperienza familiare nata nel 1968 in soli 51 anni con un percorso ricchissimo e pieno di professionalità perché siete cresciuti davvero tantissimo Maria, per tutti coloro che sono dall'altra parte e che a questo punto desidererebbero avere maggiori informazioni rispetto al brand Robo, come è possibile entrare in contatto con voi? C'è una casella di post elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per chiedere maggiori informazioni? Certo, allora info.robo.it per qualsiasi ulteriori informazioni siamo a disposizione Grazie a te e a questo punto buon appetito visto le tante pietanze preparate dagli specialisti del food che emanano un profumino che incanta Grazie Maria Grazie ancora, arrivederci